Noi riteniamo che il Comune di Oristano abbia una società, la società in house, che possa seguire direttamente il servizio del parcheggio a pagamento e che questa attribuzione alla società possa dare un triplice vantaggio a tutta la comunità. Un vantaggio al Comune in termini di maggiori risorse a disposizione o al Comune indirettamente o direttamente alla società stessa. Un vantaggio ai lavoratori che in questo caso vedrebbero tutelato il loro posto di lavoro e sappiamo benissimo in questa situazione di grande crisi quanto sia importante difendere e lottare anche per il singolo posto di lavoro. E il terzo vantaggio è proprio della società in house in termini di risorse umane, nuove risorse, fresche risorse umane che entrerebbero all'interno della società, che sono già operativi in un servizio del Comune, ma entrerebbero direttamente nella società e potrebbero essere pronti anche a dare supporto anche in situazioni di emergenza anche su altri servizi.